La domanda di sicurezza è sempre più forte e va esaudita. Con questo obiettivo in occasione delle festività sia pasquali che del 25 aprile del 1 maggio, il prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, ha riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per concordare e disporre l'innalzamento delle misure di sicurezza e di vigilanza in questo periodo. All'incontro erano presenti anche i primi cittadini dei 12 comuni Iblei. Abbiamo pianificato misure a 360 gradi per tutti gli eventi e per tutte le ricorrenze. Tanto quelle religiose, naturalmente, che sono quelle che in questo momento ci toccano più immediatamente, quindi tutti i riti religiosi della Pasqua. E quanto le ricorrenze di carattere civile si accavalleranno quasi il 25 aprile e il 1 maggio, creando un lunghissimo ponte. E questo chiaramente rende ancora più impegnativa l'attività delle forze dell'Ordine, della Polizia Locale, della Polizia Provinciale, di tutte le istituzioni che scendono in campo in queste occasioni a ANAS, a ASP. Spero che non mi sfugga nessuno, proprio perché c'è un susseguirsi di eventi, naturalmente, sono impegnati sul campo per un lunghissimo periodo. Anche la Polizia Locale, dicevo, dove, come ormai in più occasioni abbiamo sperimentato, metterà in campo numerose pattuglie, grazie all'accordo di collaborazione che è stato fatto tra le polizie locali, che ha consentito una sinergia interistituzionale tra le polizie locali di tutta la provincia e soprattutto consente la possibilità di avere più pattuglie miste, sempre composte da vigili, ma disponibili sul territorio rispetto a prima, rispetto soprattutto e nei confronti soprattutto di quei comuni che soffrono di una gravissima carenza di organico, che in tal modo invece riescono anche a sopperire, ad avere maggiori servizi e a sopperire a queste carenze. Misure antiterrorismo? Tutte queste misure che abbiamo messo in campo sono anche e soprattutto finalizzate a prevenire situazioni che, per fortuna, al momento questo territorio sembra poco interessato, ma che comunque siamo sempre in allerta, pronti a contrastare qualunque manifestazione possa dare sospetto in qualche modo che ci possano essere radicalizzazioni o situazioni appunto di terrorismo.